Nascita, morte e reincarnazione, gli insegnamenti dei maestri cosmici sui grandi misteri della vita. Salve amici, sono qui a invitarvi a un nuovo seminario, un seminario nel quale affronteremo un tema molto importante che sono gli insegnamenti che i maestri cosmici in questo tempo ci hanno portato, approfondendo quelli che sono i grandi misteri della vita di cui già altri maestri nel tempo hanno parlato, ma siccome siamo nel tempo della rivelazione, siamo nel tempo del compimento della profezia del Paraclito, di quel Consolatore che Cristo ci promise duemila anni fa e che ci doveva svelare questo Paraclito, quelle cose che Gesù duemila anni fa ancora non poteva dire perché l'umanità non era ancora abbastanza evoluta da poter ricevere certi insegnamenti. Ecco, questi esseri che vengono dal cosmo, anche loro, assieme alla Madonna e ad altri strumenti, fanno parte della grande rivelazione di questo tempo. Quindi questi esseri hanno riaffrontato e spiegato in maniera più dettagliata e approfondita appunto i grandi misteri della vita, la nascita, la morte, la reincarnazione. Quindi in questo incontro approfondirò tutte queste tematiche e ovviamente questi esseri di cui tra l'altro la Madonna parla anche a Fatima quando dice è in quel tempo, seconda metà del secolo XX, esseri cosmici verranno da lontani lidi dell'universo nel nome di Dio. Nel nome di Dio cosa significa? Significa che vengono a spiegarci questi esseri, queste entità evolutissime provenienti da altri mondi, i grandi misteri della vita ma anche come vivono loro, come loro si interfacciano al discorso della morte, come vivono questo aspetto che a noi fa tanta paura, spiegano a queste entità come loro si reincarnano, spiegano il discorso legato al ricordo delle vite passate e tanti aspetti straordinari e innovativi di cui nel corso della storia ovviamente non si era ancora parlato. Allora cari amici vi aspetto tutti quindi il 26 giugno 2022 dalle ore 9.30 di mattina per questo seminario di un'intera giornata. Non mancate l'ultimo incontro prima dell'estate e affronteremo ripeto un tema di straordinario interesse, un tema che è utilissimo per introdurci e prepararci a quella che è imminente e che sarà la nuova età dell'oro dell'umanità. Per tutte le info riguardanti la partecipazione in presenza o online le trovate in descrizione al video e come sempre in tutti i miei social. Vi aspetto! Grazie a tutti!